Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulle raccorde autostradali di Avellino fino a sabato 29 settembre, esclusi i giorni festivi, nella fascia oraria 8, 18 e 30, per lavori, careggiata ridotta tra Fisciano e l'innesto con la strada statale 7 bis di terra di lavoro in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulle raccorde autostradali di Benevento fino al 4 ottobre, careggiata ridotta tra il casello di Benevento della 16 e lo svincolo Castello del Lago in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 145 Sorrentina fino alle 16 del 14 agosto, per lavori, chiuso lo svincolo Gragnano in ingresso in direzione Sorrento. Sulla strada statale 163 Amalfitana tra Praiano e Conca di Marini, senso unico alternato, fino al 30 settembre. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.